Ahah Io in realtà non sono morto, nel senso sono entrato da lì, quindi è una morte finta a guardare il film. E la roba, ecco, questo è il continuo. E niente, vi è piaciuto? A me la parte che preferisco personalmente è quella finale, perché ci sono anche io nell'altra, ci sono, perché il film è brutto. Sono contento che mi sia piaciuto, sia per una sala enorme, cioè nel senso non vedo la fine, perché io non vedo la finale. Siamo sempre belli quei cartelloni, non l'ho mai visto nessuno, è qualcosa di assurdo. Me l'ho fatta nel duello! Grazie, grazie, molto agentivo. Fai l'unione, ragazzi. Sampro. Lo ritrovo al meglio, perfetto. Grazie, 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 gentile. E allora... Perfetto, devo per forza andare a casa senza orecchie oggi, gentilissime. Allora, siccome sono qua, e... Allora, vi faccio due premesse. Non può essere un raduno questo, quindi non è la cosa solita con foto e autografi, perché siamo dentro e devo forzare anche in altre sale, se no non abbiamo tempo di farle tutte. Però... Però... Allora, siccome oggi sono qui, invece che fare, che cantare, non è una bella performance, lo assicuro. Facciamo due cose. Allora, la prima cosa che voglio fare è pensate di uscire bene, perché lo devo mettere in un video, ragazzi. Allora, il silenzio della Madonna, prima che mi piaceva un sacco, allora, state tutti zitti, io mi riprendo così, come via, battaglia, per cambiare... E, mentre mi riprendo, poi mi giro. Quando mi giro, dovete esplodere, alzatevi in piedi, urlatevi se non ci fossero mai. Però prima tutti zitti, dovete saprare che non ci sia nessuno, ok, ragazzi? Quando mi giro, quando mi giro, dovete fare il casino. Perfetto, bravissimi. Perfetto, bravissimi. Allora, state l'opera, poi Just Viver. Siete? Ci dobbiamo alzare in piedi? Sì, dobbiamo alzare in piedi. Non aspetta, non aspetta, quando mi giro, quando mi giro. Gensi, fui un pato, io non ci fossero mai. Ci siete, adesso? Pronto, bien? Sì. 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 Questo è il video buono, ragazzi. Io lo metterò in un giorno. Un applauso per tutti voi. Sì. Sì. Come è il pubblico più bello che ho avuto da qui a non so quanto. Sì. Sì. Ho visto i suoi stupendi, ne ho messo ancora un pochettino. Adesso non vado via perché mi piacete, perché dovrò andare in altre sale, infatti mi saranno come segnato addosso. Ma facciamo pazienza, sono qua perché siete bene. Allora, adesso facciamo un'altra cosa, visto che mi piacete. Facciamo, scusate, non posso fare tutto, non ho capito, faremo poi il raguono. Facciamo un paio di rispondi in diretta, vi va? Chi ha qualche domanda, alziamo, io lascio qui i miei amici a fare l'informazione. Facciamo un po' di rispondi, non mi faccio un po' di rispondi. Non mi faccio un po' di rispondi, non mi faccio un po' di rispondi. Mi piacete, però non funziona così, funziona così. Hashtag Faberisponder, due punti, e poi fai la domanda. Hashtag Faberisponder, due punti. Metti il cappello. Metti il cappello, mi vuoi proprio male. Sì, è una bocca. Brava Gloria, ma ho molto bello. Mi si vedevo soppegli meglio. Faccio un'altra scena di capelli che sono meglio così. È bello. Mi sa che fa la faccia. Sei bellissima. Facciamo tutti i partiti insieme la foto, voglio neanche la foto, non so il mio. Lorenzo! Lorenzo! Non so fare il posto taglio perché mi prude il cervello. Grazie, è bello comunque, lo metto da rimorchiare questo. Lorenzo, non ti finti, ma rinforzi! Vado inoltre due volte, due mila e due minuti. No, quando vorrei. Mi fa camminare lì, due minuti. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ti odio. Ti odio. Ti odio. Ti odio. quando uscite comunque no comunque prendi quel cartellone ma tutto basta quello che tu prendi prendi quel cartellone e leggi devo leggerlo no no aspetta voglio leggerlo adesso perché ho letto qualcosa che già mi sa The Bull allora vabbè un attimo 25, 10, 15 Milano, Martin Garrix la serata più bella della Torino vi prego fatevi qualche domanda fatevi per forza una domanda sono Lorenzo sono Lorenzo grida è sempre lì 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 come ha raggiunto i genitori al fatto come tu vuole fare lo youtuber? beh non c'è stato un momento in cui ho detto ma 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 vuoi fare lo youtuber? è stata una roba molto progressiva nel senso io faccio un video mi sentivano parlare come una checca e quindi avevo capito e faccio lo youtuber e ci sono pensato che si dice poi avevo capito sia dei problemi c'è la roba che è andata pian piano c'è stato un momento poi c'è la domanda io vai alza la mano vieni inizio a bisogni ciao 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 mi stai facendo il video mentre le fai la domanda brava bravo bravo ti chiamo Carlo ti chiami Carlo ciao Carlo ciao ciao Carlo ciao oddio è una domanda sincero alzati in piedi a fare il video alzati in piedi quando hai iniziato a fare il video su youtube? no no è l'hashtag ok hashtag mi ho direttato a tutti le persone esatto a me non vanno a fare il video su youtube aspetta sto mi succedono che c'è scritto il suo libro ciò vuol dire che non hai letto il libro o hai scritto a prendere il libro o non ti rispondi ah si è cazzata ho iniziato mi voglio bene anch'io oh quando lì sapeva che volevo bene quindi ha detto non ciò va bene grazie eeeh nel 2011 ci pare con i miei amici all'inizio e alla 2011 alzate bene ciao 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 oggi voglio stare qui oppure la Martingarix oh 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 ma non vedo più niente te l'arrivo più lì Asha che fai rispondere come ci sente a trovare tante persone davanti a te imbazzati tantissimo però non lo faccio vedere perché in questo momento mi sbaglierei per terra e morirei ma io lo faccio 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 Asha che fai rispondere Asha che tomate nella realtà è molto figa rispetto a chi ne filma non ho capito niente tomate nella realtà tomate nella realtà è molto figa che ne filma oh Dio aspetta che la chiamagliano lì la facciamo in live e poi guarda ma dopo tranquilla tranquilla è tranquilla e una domanda non mi hai dato non mi hai detto non mi hai detto non mi hai detto Asha che fa Asha che fa Grinzo 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 grazie grazie Asha che fa hashtag Asha che fa Asha che fa non ho detto cosa provi quando ci incontri beh guarda cosa devo fare se tu morirei per terra dall'affetto mi vorrebbero accele veramente tutti grazie tesoro grazie asha che dormi perfetto Pari 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 lì per terra vedo proprio vabbè poi li prenderò tutti poi si sono anche ascoltate la domanda perché grande grande bravissima anche per me te lo posso garantire grazie grazie voi voi mi chiedete perché vi amo Mario proprio non hai capito niente la vita vedo i garzoni no vedo i garzoni vai io vai esatto vedo i garzoni sanno più di me meglio di me beh è bello di te ovunque che stai facendo ciao non siamo la mamma no 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 stai facendo un telefono come dire salita dai è lui che ha girato il microfono chiamate lui che devo fare io è 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 io mi chiamo Riccardo hashtag fammi risponde due punti è ho deciso quando vieni qua per hai dato una legge ok non lo so ancora perché ho deciso oggi che siete così fantastici è io è io ho deciso è io non lo so prima possibile magari quando dopo meno prezzo che ti insegna le parti tutto qua grazie mille c'è te zio no ti si non 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 adesso non è dolce non non ma Ciao, questo lo facciamo perché stanno facendo dei video, quindi ti saluto. Ciao, il ragazzo non ha fatto la foto. C'è, ha fatto la domanda. Dica, dica, tranquilla. Tranquilla. Le danza, 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 le danza. Ecco, io aspettavo, ho aspettato tutto il tempo che arrivasse la scena finale, perché prima io non faccio una manza a parte stare al computer. E ho appena visto la scena finale, mi sono affanzionato quasi a piangere, questo tipo tre giochi fa. E' stato wow, è stato wow, veramente. Qua, qua, qua! Qua, qua! Qua, qua! Ciao, bellissimo! Ti sei da due anni. Grande! Ho una domanda. Dicami. A femmina come andiamo. Non c'è che si, vada qua! E se non ti è più bene che abbiamo visto. Il video se hai senza la ragazza, quando lo fai? Il video? Il video? Ah, insomma, qualcuno vuole fare qui, devo guardare. Quando la necessità decidera? Qua, 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 qua. Il bel faggio che c'era. Ah, io invece sono un po' incantato. Dimmi. No, 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 no. È stato molto, mi sono sentito troppo piccolo, cosa mai vista. E non ho, cioè io sono quasi tante di un po' di persona, quindi essere lì con i fotografi che ti fotografano il peggio e il naso è stata una cosa abbastanza strana, però, ok. E' altro. Allora, è la domanda, ragazza, eh. È la domanda. Ma non è, poi il video. Allora, fermi, 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 fermi. Sì, dobbiamo fare una foto che te l'ho caricata, o su Facebook, o su Instagram, o allo, ok, padre. Ti voglio tutti su, anzi, no, tutti con le mani su, vinci, che viene bene. Voglio una foto, tutti con le mani su, tutti con la, tutti con lì, e anche lì davanti. Se non fare qui, la mettiamo in sotto. Gisela, io giù, ti compasciamo un po' bella, leone. Ehi, 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 no, fermi, dai, state sedute, va. Dai, dai, che se no mi fa male. Gisela, vai. Ah, facciate le mani su Facebook. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie a tutti.